I militari del Comando Compagnia Carabinieri di Eboli e gli ordini del Capitano Luca Geminale hanno tratto in arresto un pluripregiuricato quarantennio, originario di Eboli, ma residente a campagna. I militari lo hanno colto nella fragranza di reato, mentre era intento a svaliggiare un appartamento in zona Prato. Le indagini continuano, in modo assidio e costante da parte degli inquirenti per assicurare la giustizia anche ai complici dell'arrestato. Quarantenne è stato tradotto presso la propria abitazione al regime degli arresti domiciliari.